Filippa Lagerbac Filippa Lagerbac, che tempo che fa, il bacio in bocca a Fazio, la Littizetto stuzzica su Bossari Filippa Lagerbac, che tempo che fa, il bacio in bocca a Fazio, la Littizetto stuzzica su Bossari Era inevitabile che listrionica Luciana Littizetto riservasse ancora qualche simpatica punzecchiatura a Filippa Lagerbac dopo la vittoria di Daniele Bossari al grande fratello Vip La comica già nei giorni scorsi aveva chiamato in causa la svedese sulla proposta di matrimonio in mondo visione arrivata dal suo compagno nel reality di Mediaset Nell'ultima puntata di che tempo che fa è così tornata alla carica Ma la fidanzata del conduttore di mistero stavolta ha preso tutti in contropiede Mentre Luciana snocciolava battute su Aida e Spica, Giulia dell'Elisse Bossari, Filippa si è alzata dalla sua postazione, si è diretta verso Fabio Fazio e l'ha baciato sulla bocca e La reazione di Fazio dopo il bacio di Filippa Littizetto ironica, la Lagerbac correva come la scimmia di Gabbani Ha vinto, guarda com'è felice La Littizetto si sta riferendo alla vittoria di Bossari al GF Vip e sta guardando Filippa, come è andata? La domanda, dal tono, è simpaticamente stuzzicante e alluda la passione sotto le lenzuola La Lagerbac però non si compone, tutto a posto Lo show della comica continua, quando ha vinto, Bossari, NDR, Filippa ha iniziato a correre come la scimmia di Gabbani per lo studio Il clima che tempo che fa è goliardico Luciana passa poi alla rubrica telefonica di Daniele, ora ti conviene cancellare tutti i numeri di telefono di Aida Espica, Giulia dell'Elisee. E qui scatta il colpo di scena, la svedese si alza dalla sua postazione, viaggia spedita da Fazio e gli stampa un bel bacio sulla bocca Il conduttore gongola, mi era capitato di baciare Luciana a Sanremo, ma stasera è stato molto diverso Littizetto e lo scorso show su Bossari e Filippa La Littizetto anche la scorsa domenica ha scherzato con la Lagerbac Quella volta la sua verve comica si era concentrata sulla proposta di nozze fatta da Daniele a Filippa durante la diretta del lunedì al GFV Luciana aveva colto la svedese in contropiede, facendola un po' imbarazzare Stavolta la showgirl ha invece anticipato il colpo e per la gioia di Fabio Fazio è arrivato un bel bacio Stavolta la sua vera Grazie a tutti.